Io sono Riccardo Sinigaglia e insegno musica elettronica al Conservatorio di Milano dal lontano 84, prima ancora studiai lì e quindi quando iniziai lavoravamo tutto con sistemi analogici, dopodiché a un certo punto ovviamente siamo passati a lavorare con i computer. Qui in questa manifestazione però ho portato dei vecchi Synth, Moog e Synth EMS per mostrare come funzionava il mondo analogico da cui in fondo è derivato anche quello digitale perché comunque la logica che sottende a questi Synth è quella che poi verrà usata anche nei sistemi digitali in quanto per esempio i Synth ha tutto una patch tipo quadro in croci o se volete battaglia navale che è il sistema con cui si basano anche tutti i sistemi informatici odierni. Quindi mi sembra molto bello e interessante rivedere questi strumenti anche perché oggi hanno un grande ritorno. Vedo che moltissimi giovani vogliono usare questi strumenti che naturalmente non sostituiscono i sistemi computerizzati ma diciamo li possono affiancare dando quel calore umano che sennò a volte può mancare. Grazie. 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 Grazie.